Lei è Lalla, ha due anni, arriva da un paesino della Puglia. Lei è stata trovata su un ciglio della strada, piccolissima, investita da una macchina. Fortunatamente non aveva riportato danni permanenti, è stata recuperata da un ragazzo che l'ha messa in sicurezza e adesso è arrivata qua da noi da qualche mese. Lei è una gattina buonissima, dolcissima, solo che non va in adozione per un semplice motivo, è un problema estetico. Lei ha gli occhietti che lacrimano molto, ma lei è dolcissima, è buonissima, è una coccolona e aspetta la sua famiglia per sempre. E quindi se vi siete innamorati di Lalla, eccola, lei è qua che vi aspetta, aspetta la sua nuova famiglia per sempre. Lalla è una gatta straordinaria e ci insegna che la bellezza risiede nel cuore, nel coraggio di affrontare le avversità, non nel fisico, tanto più che è veramente una bellissima gatta. Questi occhioni sono stupendi e ci sono tanti prodotti in commercio per tenerli puliti e comunque basta un pochino di acqua calda o di acqua borica su quello che è un piccolo pane. Insomma, non sarà certo questo il motivo per non adottare una gatta di questa bellezza, perché ognuno di noi può avere delle imperfezioni, ma questo non ci rende meno degni di essere amati e di essere accettati. Spero che Lalla possa trovare una famiglia amorevole, che sappia vedere oltre le apparenze e comprendere la sua bellezza. Chiamate quindi il 3495923454 per adottare...